Ben trovati ai tre spettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottore Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo del cocco, un frutto tropicale però dalle mille proprietà. Il cocco, noce di cocco, è il frutto della palma da cocco, una planta di origine indonesiana. Si presenta con un frutto abbastanza voluminoso caratterizzato da questa parte esterna legnosa che contiene all'interno una polpa croccante molto bianca e un liquido latteginoso chiamato acqua di cocco. È un frutto abbastanza o molto calorico, insomma 100 grammi apportano all'incirca 360 calorie, è però molto ricco in sali minerali, potassio, calcio, fosforo, magnesio, anche vitamina del gruppo B, vitamina E e vitamina C. Molto spesso viene disidratato, questo per permetterne il consumo sotto forma di scaglie, però anche qui le calorie per 100 grammi arrivano quasi a 600 calorie, quindi molto calorico. Quali sono le proprietà benefiche? Sicuramente è molto ricco di acqua, quindi ha un buon effetto diuretico ma anche rinfrescante e dissetante. Contiene moltissimi sali minerali, quindi è un ottimo ricostituente, soprattutto per chi come gli sportivi deve reintegrare i sali minerali persi. Ha un'ottima digeribilità ed è anche molto ricco di fibre, quindi aiuta il transito intestinale. Chiaramente essendo molto ricco di calorie non è adatto per chi è a dieta, però dei recenti studi hanno dimostrato come in effetti gli acidi grassi, a media catena dei contenuti nel cocco, essendo inviati direttamente al fegato e trasformati in chetone, tendono a non incidere sul quadro lipidico, ma anzi a dare un certo senso di sazietà e quindi aiutare un po' anche il controllo del peso. Chiaramente questo però avviene se le porzioni sono controllate. Inoltre contenendo calcio, fosforo, aiuta anche a prevenire l'osteoporosi. E poi ci sono tutta un'altra serie di benefici che derivano da alcuni derivati del cocco, come per esempio possono essere l'olio oppure l'acqua di cocco. Per esempio l'olio è molto resistente alle alte temperature. Il latte di cocco, seppur molto calorico, invece è privo di lattosio. E poi abbiamo anche l'acqua di cocco, che invece è molto rinfrescante ed è dissetante. Chi è che non può farne un abuso eccessivo? Sì, allora sicuramente chi è in sovrappeso è obeso, chi ha un quadro lipidico alterato, cioè con colesterolo e trigliceridi molto alti, chi soffre di fegato grasso, ma anche di disturbi intestinali come l'acolite, dato un grande numero di fibre. E poi c'è la possibilità di alcune allergie, anche da fare attenzione per quanto riguarda alcune interazioni con dei farmaci, soprattutto per dei farmaci per l'ipertensione e l'ipercolesterolemia. Bene dottore, grazie per i consigli. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana. Grazie per i consigli. 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 Grazie per i consigli.